Perdonatemi, scusate, ok? Io direi che è tre settimane che lavoriamo su questa cosa e ci facciamo un culo grande come un cazzo, che se non ci fossimo stati io, Filippo, Goderzo, Filippo, io, Cristo, Goderzo e Lungard, non ti sarebbe fatto un paiole, un paiole, un paiole, un paiole, un paiole, un paiole. Cazzo, io e Lungard, la cosa che ti sto dicendo adesso, che secondo me è molto importante e che sta succedendo, i docenti, ovviamente, come avevamo preventivato, non vogliono collaborare a una cosa che prevede... Oh, 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 mi fate finire, Cristo, che prevede una cosa illegale, cioè Cristo, io, Filippo, il Goderzo e Lungard. Io vi chiedo, nel tempo che ci rimane di assemblare straordinaria, di decidere se secondo voi è più importante Cristo oppure O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O